Il Cervinato deve pensare a se stesso, però c'è pure la matematica. Il Grotta è riuscito a vincere la partita proprio nei minuti di recupero e quindi quello che speravano qui i tifosi del Canada di vedere un paio di punticini recuperati sulla formazione di Casale invece non è stato. Sì, noi non possiamo sperare nelle altre squadre perché si prospetta da qui alla fine quasi un campionato falsato. Noi dobbiamo solo sperare in qualche passo falso del Grotta e non farne più noi perché noi, come io lo dicevo anche prima, noi bisogna sempre assolutamente vincere. Quello che dispiace è squadre che fino a qualche domenica fa sono venute qui a giocarsela alla morte poi vedi che si sono lasciate andare completamente, qualche altra che non fa conti voglio dire è un campionato abbastanza falsato però noi ci chiudiamo in questo spogliatoio, su questo campo per lavorare, per fare il nostro senza badare a regali altrui quindi voglio dire noi ce la conquistiamo sul campo come stiamo facendo da un bel po' non guardiamo nemmeno quello che succede sugli altri campi perché sappiamo tutti come va il calcio però ripeto io mi fido di questo cervinare e penso di vincere il più possibile e di arrivare il più in alto possibile. Domenico è una trascerta difficile per concludere, c'è questo cicciano, una formazione che nel giorno di ritorno si ripresa tantissimo, sviluppa anche un ottimo gioco, un campo caldo. Sì, non ci spaventa assolutamente, massimo rispetto anche per questa gara molto delicata però inizieremo a pensarci da martedì, sappiamo che poi c'è un unico suo obiettivo e quello cronologico e quello di sabato abbiamo solo quell'obiettivo di guardare il cicciano e basta. Presidente, insomma a questo punto ogni domenica si deve fare i calcoli con questa matematica. Vabbè oggi ci si aspettava una risposta dei ragazzi dopo la brutta esperienza di Paolisi perché abbiamo giocato bene però non siamo riusciti a vincerla. È normale che giochiamo e guardiamo poi a fine partita il risultato del grotto perché in questo momento è la squadra che fa da battistrada e alla quale dobbiamo cercare di macinare punti per cercare di fare i playoff. Se ci riusciremo fino alla fine sarà un bene per questo campionato. Mister Cagnale è molto amareggiato, dato il rilassamento di alcune squadre si è sbilanciato parlando anche di un campionato che può risultare falsato. Vabbè ma è così, si è visto il Mugnano di ieri prendere quattro gol cosa che non era mai successo durante l'arco di tutto il campionato giustamente in settimana c'è stato l'abbandono del mister che è andato via quindi il Solofra penso che in questo momento c'è il Solofra e il Guardia che potrebbero dare una mano per fare questi playoff però sempre devono giocare col grotto ma il grotto è una squadra che sta dimostrando di giocare fino all'ultimo minuto come oggi oggi da quello che so ha vinto la partita nel recupero con un'autorete quindi questo significa però che ci crede fino all'ultimo e quindi gioca fino all'ultimo minuto.